Sono bastati pochi giorni al neosindaco di Brolo, Giuseppe Laccoto, eletto alle amministrative domenica scorsa, per sciogliere il rebus delle cariche assessoriali da assegnare. Come previsto, l'ex parlamentare regionale ha scelto i suoi collaboratori del nuovo esecutivo direttamente tra gli eletti e questo gli ha permesso di liberare posti per altri consiglieri comunali della sua lista in appoggio. Ma andiamo con ordine. Vice sindaco ed assessore è stato nominato, come già da indicazione in prima battuta, Carmelo Zino. Quindi la scelta è andata su Tina Fioravanti, forte di un clamoroso successo delle urne, che le hanno assegnato di fatto ben 634 preferenze. Gli altri due assessori saranno Maria Vittoria Cipriano e Nuccio Ricciardello. A questo punto si potrebbe profilare anche l'appoggio della maggioranza all'avvocato Mimmo Magistro, secondo degli eletti, per l'incarico alla presidenza del Consiglio Comunale. E a proposito di consiglio, l'insediamento dell'auda è stato fissato per il 14 maggio alle ore 18. Durante la seduta si insederà di fatto il nuovo esecutivo, con il giuramento dei consiglieri proclamati eletti e del primo cittadino, eventuali surroche, l'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale e la comunicazione della composizione della Giunta Municipale. Sono inoltre previste le nomine della Commissione elettorale comunale, della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari e dei rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione Terra dei Lancia. Infine, restando al dopo elezioni, il Sindaco Lacoto e tutta la squadra di Brolo riparte incontreranno i cittadini domani, 5 maggio alle ore 18, al Palatenda di Piazza Annunziatella. Sarà l'occasione per festeggiare la vittoria alle recente elezioni, ha detto il Sindaco Lacoto, ma anche per parlare dei primissimi provvedimenti della nuova amministrazione. La serata sarà animata dalla Kilimanjaro Band.